Musica Buonasera dal TG6, apriamo con la cronaca. Sarebbe Sulmonese, l'italiana dispersa nell'attentato di Berlino. Si tratta di Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni, che vive e lavora nella capitale tedesca. Già da diversi anni il suo cellulare è stato trovato sul luogo dell'attentato. Solo oggi, quando la giovane non si è arrecata a lavoro, è scattato l'allarme. La famiglia sarebbe stata contattata dalla Farnesina nella notte. La madre e il fratello di Fabrizia sono partiti nella mattinata verso Berlino per essere sottoposti all'esame del DNA. Solo dopo la comparazione del profilo genetico, le sue condizioni potranno essere ufficializzate. Anche il padre, dipendente delle poste italiane, ha raggiunto i familiari. Lo ha rivelato lui stesso e i colleghi andati a trovarla a casa subito dopo la divulgazione della notizia. L'uomo è partito da Roma con il volo delle 18. Cambiamo argomento. La regione trasferirà ad Anas 78 milioni di euro per la realizzazione della strada statale 652 di Fondo Valle Sangro, nel tratto compreso tra la stazione di Gamberale e l'inizio della variante di quadri. Ci spiega tutto Alfredo Primante. Con la firma della convenzione tra Regione Abruzzo ed Anas è stato posto l'ultimo tassello per i lavori di completamento della strada statale 652 della Fondo Valle Sangro, nel tratto compreso fra la stazione di Gamberale e l'inizio della variante di quadri. L'accordo prevede il cofinanziamento dell'opera da parte della Regione con un trasferimento in favore di Anas di 78 milioni di euro a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 patti per il Sud. Nel complesso i lavori ammontano a 190 milioni di euro per un tratto di 5,3 chilometri prevalentemente in sponda sinistra del fiume Sangro con 5 viadotti lunghi complessivamente 1,2 chilometri e una galleria di 2,5 chilometri. Ieri il Consiglio di Amministrazione dell'Anas a livello nazionale ha deliberato il progetto esecutivo cantierabile e il bando di gara. Nei prossimi giorni, e che per me significa nelle prossime ore, troverà pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questa è un'opera attesa da 40 anni che consentirà la Fondo Valle Sangro di essere completata e realizzare un'autostrada dei due mari senza pedaggio. Io conto nei prossimi giorni di fare uscire il bando di gara internazionale sulla Gazzetta Ufficiale. Ci vorranno qualcosa come 50 giorni per la definizione di coloro i quali sono ammissibili e valutabili circa l'offerta da preferire. E poi ci sarà la firma del contratto dopo aver fatto la verifica del possesso dei requisiti individuali. Una parte del ribasso faremo in modo che venga utilizzata per il viadotto Barche. Anche questa, una parte di questa infrastruttura, nata male, finita peggio, che sta lì sospesa a mezz'aria, intanto la faremo colorare per fare in modo che non accada mai più che un'opera progettata male si concluda in quei termini. E poi la faremo sistemare, trovando un tracciato idoneo, questo breve tratto che ha ormai 30 anni di vita come sconciatura progettuale. All'Aquila in questi giorni si sta tenendo il processo sul sito inquinato di Bussi e a parlare su questa riapertura in corso è il presidente del WWF Abruzzo, Luciano Di Tizio. Sito inquinato di Bussi, Luciano Di Tizio, come mai si è arrivati al processo d'appello? I pubblici ministeri avevano fatto ricorsi in Cassazione, saltando l'appello e poi chiedendo l'annullamento di parte della sentenza. La Cassazione ha ritenuto che invece il processo dovesse andare in appello e ha rinviato gli atti alla Corte dell'Aquila. Processo che andrà avanti in maniera spedita, così sembra almeno? Alla prima udienza è stata rigettata una richiesta degli avvocati che chiedevano un rinvio, gli avvocati della difesa chiedevano un rinvio e la Corte ha stabilito un calendario molto serrato che prevede udienze frequentissime in gennaio con la sentenza prevista a fine mese, il 31 massimo il primo di febbraio. Se il calendario verrà rispettato e nulla fa pensare che non sia così, dovremmo arrivare alla sentenza di appello nel giro di poco più di un mese e mezzo, ormai. Qual è il pensiero del WWF su questa vicenda e su questo processo in particolare? Sul processo ci sarebbe tanto da dire, sapete tutti, sanno tutti i telespettatori quello che è successo, le polemiche che ci sono state e che sono ancora in corso. Noi nonostante tutto come WWF siamo parte civile in questo processo e continuiamo a credere nella giustizia, ci crediamo e confidiamo che la giustizia alla fine trionferà. Certamente ci sono dei punti oscuri che andranno chiariti in tutta questa faccenda, ci auguriamo che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Il processo d'appello è una tappa importante, la fiducia ce l'abbiamo, certo quello che è successo finora è stato abbastanza amaro perché rimane un discorso fondamentale, al di là dello stabilire i colpevoli, se ci sono o non ci sono colpevoli o qualunque altra cosa, la cosa più importante resta la bonifica che dovrebbe restituire all'Abruzzo dei territori incontaminati e su questa veramente siamo ancora all'anno zero. E sul caso dello sversamento di sostanze tossiche da parte dei lavoratori di fisica nucleare e dei laboratori del Gran Sasso nell'acqua potabile distribuita nel comprensorio Teramano, insorge l'associazione di consumatori Robin Hood che fa sapere di, che promette, di rivolgersi alla procura. Ci racconta tutto Tania Bonnici Castelli. L'associazione consumatori Robin Hood di Teramo torna prepotentemente sulla sicurezza dell'acqua distribuita nel territorio Teramano, dito puntato contro i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso che già nel 2003 provocarono uno sversamento di sostanze tossiche nel pozzetto di drenaggio, veleni che poi finirono nella rete dell'acqua potabile dove il ruzzo captava. Nonostante la messa in sicurezza di allora, il fenomeno si è ripetuto dopo 13 anni e questo crea preoccupazione e fa porre qualche domanda. La vostra associazione non è tanto sicura, non è più sicura dell'acqua che si beve a Teramo per lo sversamento. È una storia che comincia un po' da lontano dal 2003. Sì, no, siamo sicuri perché pensiamo che la ruzzo ci garantisca questo e quindi siamo tranquilli che la ruzzo garantisca acqua sicura. Non siamo sicuri dei laboratori e del sistema dei laboratori che garantisce il sistema dell'acquedotto del ruzzo. Sì, abbiamo purtroppo un precedente, su questo precedente sono stati spesi i denari pubblici per mettere in sicurezza, ci avevano l'assicurato, però punto è a capo. Ci ritroviamo oggi con la stessa realtà, quindi vorremmo avere assicurazioni maggiori per quanto riguarda il futuro. Cosa chiedete? In buona sostanza noi chiediamo intanto che l'Istituto Nazionale di Fisico Nucleare si faccia a carico degli eventuali costi superiori per quanto riguarda gli utenti e soprattutto diciamo diventi un po' più trasparente per quanto riguarda la messa in sicurezza e a tal proposito noi chiederemo a magistratura di indagare. La ruzzo ha infatti spiegato che il proprio sistema di controllo bloccò immediatamente a settembre scorso l'immissione dell'acqua contaminata nel circuito dell'acquedotto e che dopo quell'episodio nessun problema è stato successivamente riscontrato. Dopo la bocciatura della proposta della riforma costituzionale che prevedeva l'abolizione delle province, è stato scongiurato la fine dell'ente e il prossimo 8 gennaio a tornare al voto ci saranno 195 comuni per tre consigli. Elisa Leuzzo. Abruzzo al voto per il rinnovo dei consigli provinciali in regione. Sono coinvolti 195 comuni, 104 della provincia di Chieti, 47 della provincia di Teramo e 46 della provincia di Pescara. Nel dettaglio a Chieti sono tre le liste con 12 candidati ciascuna, molti dei quali sindaci. Spicca per numero, sono 8, la presenza dei primi cittadini nella lista insieme per la provincia di Ispirazione Nuovo Centrodestra, 2 i sindaci candidati nella lista di Centrosinistra, Provincia Unita, mentre vede insieme esponenti di Forza Italia e Udc la lista Obiettivo Provincia. A Teramo sono tre le liste in competizione, due quelle di Centrosinistra, direzione futuro di 6 candidati e la Casa dei Comuni di 10 candidati. Infine una di Centrodestra, la Forza del Territorio, di 9 candidati. Due liste di Centrosinistra ed una di Centrodestra concorreranno invece al rinnovo del Consiglio Provinciale Pescarese, la lista Provincia in Comune, che fa capo al presidente in carica Antonio Di Marco, la lista Socialisti, anch'essa riconducibile all'area di Centrosinistra e la lista di Centrodestra, Forze di Libertà. La scadenza dell'8 gennaio per il rinnovo dei consigli provinciali non riguarda come detto il territorio di L'Aquila, che andrà al voto con i suoi 108 comuni qualche mese più tardi, da maggio in poi. Oggi e domani gli uffici elettorali costituiti presso le province esamineranno le candidature comunicando ai delegati la missione delle liste dei candidati. Subito dopo si procederà al sorteggio per l'ordine delle liste nella scheda elettorale e dentro il 31 dicembre saranno pubblicate le liste e i nominativi dei candidati definitivamente ammessi. L'8 gennaio dalle 8 alle 20 si terranno le elezioni. Ora ci spostiamo all'Aquila in vista delle prossime elezioni amministrative e iniziano a esserci movimenti, movimenti per la politica. Allora a scendere in campo sono i DV, socialisti, liberali, altre forze civiche, tutte quante chiedono che ci sia discontinuità con il passato. Giorgio Alessandri. Nello scacchiere di centro-sinistra, in attesa che il PD rompa gli indugi, qualcosa inizia a muoversi. Sotto il cartello di Patto per l'Aquila, Italia dei Valori, Partito Socialista, Liberali e Centro per l'Aquila hanno presentato il loro progetto politico in vista delle amministrative del 2017. Lavoro e legalità saranno le due parole chiave del loro programma, che partirà, dicono, dalle esigenze della popolazione attraverso una campagna di ascolto. Non sfugge che la formazione contiene partiti scontenti e critici verso quella maggioranza con cui governano o hanno governato. Si dicono aperti al confronto con tutti, purché il candidato sindaco sia di discontinuità rispetto all'attuale amministrazione e, stando al profilo tracciato, il vice sindaco Trifuoggi potrebbe essere più che un'ipotesi. Ed è un'aggregazione aperta a tutte le energie buone, positive, alle personalità che vogliono mettersi a disposizione di questo progetto di cambiamento e di concretezza amministrativa. È chiaro che il lavoro in questa città è la priorità assoluta. Quindi noi dobbiamo mettere in campo tutte quelle iniziative che consentono ai cittadini di rimanere, ai giovani di rimanere in questa città. E per farlo abbiamo proposto già alcune iniziative e naturalmente tutto questo che ruoti intorno al binomio lavoro-legalità deve vedere la partecipazione dei cittadini dal basso. Nessuna proposta o candidatura calata dall'alto o frutto di giochi interni ai partiti deve essere una candidatura capace di interpretare le stanze di cambiamento, di pulizia e di efficienza amministrativa e noi credo possiamo tranquillamente andare avanti in questa direzione. Sulla possibilità invece di partecipare alle primarie di centro-sinistra il segretario regionale dell'EDV è stato chiaro. Le primarie chi le ha proposte non le sta più proponendo. Il tempo passa, evidentemente non siamo più in grado di farlo e quindi nessuno ci ha mai sollecitato a questo. Noi siamo pronti a confrontarci con tutti partendo dal campo progressista, però è chiaro che penso che chi ha proposto le proposte le primarie non intenda più farle perché diversamente avrebbe già avviato il percorso. La provincia di Pescara questa mattina nel corso di una cerimonia ha illustrato quelli che sono stati i lavori all'istituto Tito Acerbo, lavori sulla sismicità. Sulla sicurezza dell'istituto per una spesa complessiva di 300 mila euro. Oggi per noi è una giornata molto importante perché il presidente della provincia Antonio Di Marco ci riconsegna la sede storica, lo storico istituto che è stato durante l'estate messo in sicurezza sismica con dei lavori veramente di grosso rilievo che hanno permesso adesso di avere una scuola a norma e che garantisce la sicurezza dei nostri studenti. Non abbiamo chiuso nemmeno un giorno la scuola, si è lavorato d'estate, anche il sabato, anche il giorno dopo ferragosto per riaprire la scuola nel mese di settembre regolarmente. Abbiamo raggiunto l'obiettivo massimo che potevamo ottenere, intanto ridare l'edificio storico della Cerbo pienamente funzionale e sicuro, soprattutto per i ragazzi e per le famiglie, ma lo abbiamo fatto investendo 300 mila euro che hanno consentito di intervenire laddove erano presenti delle precarietà e delle incertezze a punto di vista della sicurezza. Io aggiungo che abbiamo anche ottenuto questo risultato grazie al superamento del patto di stabilità voluto da me e dal Consiglio provinciale un anno fa, che ci ha consentito di avviare una serie di progetti che evidentemente davano soddisfazione al sistema delle scuole della provincia. Noi abbiamo ancora una volta ottenuto un risultato in poco tempo, in nemmeno 24 mesi, che in qualche misura aiuta anche a capire le istituzioni a livello nazionale, soprattutto, che le province, ancora di più adesso che sono rimaste in costituzione, hanno necessità di risorse con le quali possono fare bene e intervenire soprattutto nelle esigenze che riguardano il sistema della scuola, ma non solo, anche il sistema della viabilità. Fino a poco tempo fa ne esistevano solo due al mondo, uno ad Amsterdam e un altro in Malesia, e invece a Teramo è stato inaugurato il Museo del Gatto. In tutto il mondo ne esistono solo due, uno ad Amsterdam ed uno in Malesia. Da oggi il terzo è a Teramo e la sua collezione compete greggiamente con le altre. È il Museo del Gatto, allestito dal Comune a Casa Urbani, nel Centro Storico Cittadino, e che offre ai visitatori una preziosa raccolta unica in Italia, appartenuta al professor Paolo Gambacurta. Cosa c'è di artistico quando si parla di gatto, o di questo gatto? Di artistico c'è molto e c'è poco, ma c'è la possibilità di far apprendere e di imparare divertendosi. Bisogna essere leggeri in un momento di grande peso, anni di piombo che sono tornati, bisogna essere molto leggeri. La raccolta di oltre 400 pezzi preziosi e curiosi che raccontano del gatto è stata donata dalle sorelle Rita e Bianca Maria Gambacurta all'Istituto Zoo Profilattico di Teramo, in memoria del fratello Paolo, viaggiatore stancabile e collezionista di grande livello. Quanto è importante il gatto, per esempio, in una terapia con i bambini, questa cat therapy? In generale il ruolo degli animali per quanto riguarda il benessere delle persone, sia fisico che psichico, è ormai riconosciuto. Il gatto si rientra benissimo in questa categoria di animali. Adesso la pet therapy è normata, quindi ci sono delle leggi nazionali e anche regionali che normano la pet therapy e ci sono anche una vastità di studi scientifici che ci permettono di dire che il gatto e in generale gli animali hanno un ruolo importantissimo nella salute psicofisica umana. Tra gli oggetti più preziosi esposti nel Museo del Gatto di Casa Urbani a Teramo ci sono dipinti di fine 800, incisioni, soprammobili, ceramiche. Rarissimo è un gatto cinese che i fumatori di oppio usavano come poggiatesta. Ma chi è il gatto per lei? Il mio migliore amico. Il comune di Pescara sancisce una collaborazione con la Lega Abruzzese Antidroga e lo fa per quello che riguarda i parchi cittadini. Assessore Di Pietro, com'è nata l'idea di affidare l'apertura e la chiusura dei parchi cittadini alla LAD? Sì, in realtà con la LAD il comune di Pescara collabora da moltissimi anni. L'anno scorso ad esempio abbiamo avviato un progetto per lo sfalcio della strada parco e di buona parte di Piazza Duca. Quest'anno proprio perché noi siamo sempre in difficoltà sull'apertura della chiusura dei parchi, immaginate che ci sono 54 aree verdi a Pescara che non sono sicuramente poche, ma come noi so che in molti altri comuni d'Italia hanno lo stesso problema perché gestire un parco è sempre cosa difficile, abbiamo da una chiacchierata è partita appunto questa idea di chiedere aiuto alla LAD che con un contributo veramente minimo che non vale neanche il rimborso spese, stiamo parlando di 5.000 euro, per tutto il 2017 aprirà e chiuderà 12 parchi di Pescara, 12 parchi che fino a ieri rimanevano appunto aperti e quindi in pericolo perché in preda e vanda le balordi a chiunque la notte volesse introdurvisi. I cittadini ci chiamano spesso per denunciarci queste situazioni e noi stiamo facendo l'impossibile per convincere le associazioni e i privati ad adottare le aree verdi che penso che sia la strada migliore per poter gestire la cosa pubblica, però intanto abbiamo chiesto appunto aiuto alla LAD che ci ha venuto in soccorso e così l'anno prossimo praticamente non ci sarà più nessun parco a rimanere aperto a Pescara. Vogliamo un attimo ricordare cosa fa la LAD in città, un'associazione conosciutissima. La LAD sì, è un'associazione molto attiva sul territorio del fortissimo Gianni Cordova che da anni appunto è diventato ormai una bandiera di Pescara, si occupa di ragazzi ex tossicodipendanti che sono appunto in terapia diciamo e saranno proprio tre di loro che oggi hanno partecipato anche alla conferenza stampa ad occuparsi dell'apertura e della chiusura di questi parchi. A loro va il nostro in bocca al lupo ovviamente. Le relazioni a volte complesse tra Russia e Germania sono diventate il centro dell'attenzione di un libro scritto dal giornalista e saggista Aquilano, Salvatore Sant'Angelo. Presentato l'ultimo volume del giornalista ed esperto di politica internazionale Aquilano, Salvatore Sant'Angelo, dal titolo Gerussia. L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione L'Aquila che rinasce nell'ambito di onda di innovazione e durante l'evento si è discusso di nuovi scenari internazionali alla luce della Brexit, della vittoria di Trump e dell'esito referendario nel nostro paese. Gerussia ricostruisce la storia e l'attualità di uno degli esnodi politici più importanti del nostro tempo. L'analisi risale alle radici e dalle ferite storiche della relazione tra Mosca e Berlino per arrivare agli sviluppi degli ultimi anni. Nel nuovo quadro è emerso dalla crisi dell'equilibrio unipolare e dall'affermazione di due forti leadership politiche, quelle di Angela Merkel e Vladimir Putin. Sono stati tre anni estremamente intensi dove mi sono confrontato con questa inedita geografia politica ed economica scadurita dalla cruz del muro di Berlino. I rapporti tra la Germania e la Russia, due poli che sono stati estremamente conflittuali nella loro storia, due paesi che si sono mortalmente combattuti nella prima e nella seconda guerra mondiale. Anzi, soprattutto nella seconda, il fronte dell'est è stato il teatro di una guerra di sterminio da ambe e due le parti. Ma al di sotto di questo percorso possiamo leggere e intravedere la trama di una relazione di un rapporto non conflittuale, di un rapporto fatto di scambio economico, di scambio energetico, di scambio culturale. Quindi questo è non solo un progetto di ricerca ma anche un libro che si può definire un libro pacifista perché la globalizzazione ci aveva promesso un mondo più prospero e più pacifico. Invece abbiamo avuto un mondo che si sta impoverendo, soprattutto per le classi medie occidentali, e un mondo dove i conflitti si moltiplicano. Ora ci spostiamo a Penne dove l'Istituto Marconi ha organizzato un presepe vivente con 40 studenti. L'appuntamento è a Largo San Giovanni il prossimo 23 dicembre. Siamo nella settimana che ci porta al Natale, siamo qui in compagnia della dirigente scolastica dell'Istituto Marconi di Penne, Angela Pizzi. Avete organizzato questo presepe vivente, ci vuoi spiegare come nasce l'idea e quando si svolgerà? Questo presepe è nato un po' dalla volontà degli studenti che avevano proprio il desiderio di rivivere questo momento così forte con tutta la comunità scolastica che è quella del Marconi. L'abbiamo inserito nell'ambito del progetto teatrale che abbiamo fortemente voluto proprio per recuperare un po' i ragazzi difficili, quelli che a volte non hanno più voglia di venire a scuola. E devo dire che abbiamo circa 40 studenti che hanno aderito all'iniziativa e che con impegno ogni settimana sono venuti qui a scuola a fare le prove. Ed è veramente una bella iniziativa, quindi sono già contenta al di là della riuscita del risultato finora ottenuto. Noi siamo qui dalle 17.30 di venerdì 23 dicembre. L'appuntamento è a Largo San Giovanni e da lì nelle zone limitrofe sarà allistito questo presepe che itinerante e avrà come momento conclusivo quello proprio della natività con l'allestimento della capanna all'interno proprio dell'ex chiesa di San Giovanni. Apriamo la pagina dello sport. Giovedì sera ci sarà l'ultimo impegno per il 2016 per il pescare. Il match è quello con il Palermo, ultima spiaggia per provare a risalire la china dal fondo. A Palermo i bianco-azzurri avranno l'obbligo di vincere per tenere accesa la fiammella della speranza confidando poi sul mercato di gennaio. I nomi più caldi sono quelli di Denis, Budimir Bovo e Stendardo. Vediamo. Il ritiro romano per ritrovare la serenità necessaria a giocarsi il tutto per tutto a Palermo. Non sarà facile giovedì sera per il pescare a violare il Barbera, non perché i rosa e nero siano una formazione imbattibile, tutt'altro, e che in questo momento dopo il successo di Marassi, l'undici di Eugenio Corini viaggia almeno con un entusiasmo superiore della gara dell'Adriatico. È complicato trovare le contromisure adesso, Oddo si affiderà la voglia di riscatto dei suoi ragazzi battendo con la paura che, a dritta del tecnico, rappresenta il principale handicap dei bianco-azzurri in campionato. La prima palla che cade in area prendi gol, quello vuol dire che hai una paura enorme di prendere gol e il gol lo prendi. Per i rimedi invernali sul mercato ci sarà da attendere la riapertura delle liste. In cima è desiderata della dirigenza c'è l'attaccante tanto reclamato dalla piazza in questa metà di torneo. Denis è un'idea davvero concreta, l'argentino ex Atalanta è attualmente in rosa con l'indipendiente e potrebbe, nonostante i 35 anni, rappresentare la punta in grado di segnare, ma anche di dare una mano in fase di costruzione della manovra. Anche Ante Budimir piace come il croato dopo la super stagione a Crotone a Genova, sponda blu cerchiata, sta vedendo molto più la panchina che il campo. Nelle ultime cinque gare non è mai neppure subentrato e solamente in due circostanze è partito nell'undici titolare. Chiaro che abbia voglia di cambiare aria per avere la possibilità di mettere in mostra le sue qualità. In difesa i due nomi sono quelli di Bovo e di Stendardo, due giocatori che erano stati molto vicini a vestire il bianco-azzurro in estate e che potrebbero però farlo in inverno per provare a rimettere in corsa per la salvezza un Pescara che mai come oggi ha bisogno di una scossa per risalire la china. Sarà Davide Massa di Imperia, il fischietto dell'ultimo match del 2016 del Delfino e a Cudi a Ovarlo al Renzo Barbera di Palermo a Girana, a Bordocampo Sergio Aranghetti di Chiari e a Omar Ragava di Conigliano, insieme agli addizionali Massimiliano Irrati di Pistoia e Daniele Chiffi di Padova quarto ufficiale Mauro Vivenzi di Brescia. In casa Rosa Nero intanto c'è entusiasmo per la vittoria rocambolesca centrata a Marassi contro il Genoa e a parlare il difensore Andrea Rispoli. Vediamo. Reviniamo da risultati molto negativi però siamo comunque propensi a pensare alla partita successiva che è importante, sappiamo che è stata una vittoria importante ma fa parte già del passato. Una vittoria comunque dell'ambiente Palermo che ha bisogno comunque di queste gratificazioni, di queste soddisfazioni, dopo che siamo stati comunque un periodo molto negativo ma vogliamo uscire al primo presto da questa situazione. La voglio dedicare comunque alla mia famiglia che mi sta sempre vicino, che sono i pilastri del mio futuro, della mia carriera, della mia vita, quindi questo posso dedicarlo a loro che se lo meritano e a tutto l'ambiente Palermo che comunque con tutto il suo periodo difficile si è sempre stato vicino, si è sempre stato comunque molto bene vicini, quindi è fondamentale. Vogliamo fare bene col Pescara in casa perché non vinciamo praticamente da un bel po', quindi vogliamo comunque rompere il tabù e cercare di fare risultati e fare punti al Barbera. Per noi riempire Barbera è sicuramente un uomo in più in campo, quindi spero che ci siano in tanti e comunque dobbiamo essere fiduciosi perché il Palermo ce la farà. Scendiamo in Lega Pro, il pareggio interno contro la Feralpi Salò, è chiuso il girone d'andata del Teramo a quota 18 punti. Venerdì la prima di ritorno, sempre al Bonolis, contro il Lumezzane, gara delicata come ammette anche Alessandro di Paolo Antonio. Non me l'aspettavo neanche io sinceramente, mi aveva accennato il mister sabato di questa cosa, però non cambiava niente, mi ha detto di correre come avevo corso a Parma tutta la squadra e poi ringrazio pure Antonio che qualche consiglio me l'aveva dato prima della partita su come muovermi. Come trequartista mi trovo meglio perché sono più nel gioco, nel senso che gioco più palloni, sono sempre nel vio dell'azione e per le mie caratteristiche di come preferisco giocare io predico quel ruolo. Poi comunque il mister mi ha messo attaccante con il novio fattore esterno, oggi trequartista l'importante è lo spirito di come si scende in campo. Oggi come a Parma abbiamo corso come matti, come dannati, anche a volte facendo delle corse inutili, però è quello l'input che ci ha dato Zauli da quando è tornato. L'anno scorso i punti li facevamo in casa e non fuori, quest'anno si sta dimostrando il contrario, però questa cosa è male perché in casa secondo me dobbiamo fare il nostro bottino e dobbiamo cercare di vincere le partite perché fuori casa è molto dura perché le squadre devono fare punti gli altri. In casa dovremmo fare qualcosa in più, oggi la Ferrapi Solò a mio avviso è una delle squadre più forti che è venuta qui perché non è venuta a difendersi, molte squadre sono venute qui a difendersi e difficilmente quindi noi creiamo. Oggi è venuta una squadra forte, ci è venuta a pressare alti, perciò abbiamo fatto fatica secondo me il primo tempo ad uscire. Poi nel secondo tempo giustamente la Ferrapi Solò ha abbassato il ritmo, noi siamo usciti fuori e giustamente per fortuna oggi la fortuna è stata da nostra parte e abbiamo trovato quel gol alla fine. Come tutte sono fondamentali, ma questa è diventata fondamentale perché uno per chiudere bene l'anno, anzi lo chiuderemo a Bassano, però per chiudere bene l'anno in casa. Poi con tutto il rispetto per il Lumezzane, però noi abbiamo molto di più bisogno di loro, di punti, quindi in casa dovremmo vincere per forza la partita, ma non è che partiremo, che dovremmo vincere per forza, però c'è poco da fare, dovremmo fare una grande partita perché anche il Lumezzane gioca meglio fuori casa che in casa. E intanto è ufficiale la risoluzione contrattuale con il centrocampista Matteo Cericola, arrivato in estate da Rieti. Cericola chiude la sua esperienza in bianco-rosso con tre presenze in campionato, una in Team Cup a luglio contro l'Alessandria e una nella Coppa Italia di Lega Pro nella gara vinta dal Teramo contro la Lupa Roma per 4-3. E il TG6 finisce qui, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.